ciao nella lezione precedente abbiamo creato questo primo resoconto fatturato per il contabile in questa lezione faremo leva su questo report per costruire un altro report molto più sintetico per il contabile il report che andremo a creare sarà un report multilivello qui abbiamo i dati di fatturato suddivisi per mese nome prestazione e in corrispondenza sia del mese che del nome della prestazione nelle diverse categorie di riepilogo abbiamo anche il conteggio delle prestazioni e in più abbiamo gli stessi pulsanti del report precedente per poter effettuare delle ricerche vedremo come aggiustare lo script che potenzia questi pulsanti per farlo funzionare anche per questo report iniziamo con l'apertura della nostra app riduco questa apro l'app inserisco la password il nome account è admin clinica la password è admin underscore clinica invio con l'app aperta andiamo in gestione formati file gestisci formati nella lezione precedente ho creato senza rendermi conto due cartelle contabili ed è strano che non ci sia stato un avviso di errore nessun problema andiamo a selezionare questo e eliminiamo ok il reso conto fatturato lo collochiamo all'interno della cartella contabile clicchiamo e trasciniamo e rilasciamo vediamo se dentro a posto reso conto fatturato lo andiamo a duplicare doppio clic e inseriamo il nuovo nome del formato che chiameremo reso conto prestazioni mese avrai notato che invece dello spazio inserisco un underscore questo è comune agli sviluppatori perché a volte se utilizziamo lo spazio ci può essere un doppio spazio e non ce ne rendiamo conto e se usiamo anche il nome del formato negli script quello potrebbe generare degli errori così è molto più chiaro ok e qui chiudiamo questo formato navighiamo in corrispondenza della cartella contabile formato reso conto prestazioni mese la prima cosa che facciamo è di andare a dare il nuovo titolo al nostro reso conto doppio clic e inseriamo reso conto prestazioni per mese ora che abbiamo aggiustato il titolo il corpo in questo caso non ci servirà andiamo a rivedere il nostro esempio qui non abbiamo il corpo abbiamo solo il riepilogo per categorie principali per questo motivo selezioniamo qui corpo e facciamo un bar spesso di lei sulla tastiera e elimina selezioniamo a questo punto anche le intestazioni e eliminiamo a questo punto andiamo a creare la nostra prima sessione di riassunto parziale andiamo nel menu inserisci sessione riassunto parziale per tabella corrente servizi nome prestazione ok stampa sopra a posto andiamo a prendere il campo nome prestazione senza etichette trasciniamo nome prestazione che non sto vedendo nome prestazione questa trasciniamo qui all'interno qui può andar bene e rilasciamo abbiamo il nostro nome prestazione ma in realtà non è quello che mi serviva modifica il formato andiamo ad inserire anche il riassunto importo assicurazione trasciniamo e lo mettiamo in corrispondenza di questa ok ho inserito questo ma con il campo non potremo inserire il conteggio delle prestazioni cancello questo campo backspace e quello che andiamo ad inserire è inserisci campo fusione opzione comando m campo fusione il campo fusione che andiamo ad inserire prenderà il dato da nome prestazione ok a questo punto abbiamo il nostro campo fusione clicco fuori possiamo mettere qui qui vediamo servizio diretto perché abbiamo ancora l'impostazione attiva visualizza mostra togliamo questo dati di esempio così vediamo la codifica e potremo entrare dentro ad apportare modifiche nome prestazione andiamo a vedere comando b qui non vediamo niente perché è importante ordinare andiamo a ordina e scegliamo di ordinare per nome prestazione e togliamo data visita che era l'ordinamento precedente doppio clic ordina e abbiamo i nostri record ripilogati per nome prestazione modifica il formato andiamo ora ad inserire il conteggio per inserire il conteggio dobbiamo inserire un altro campo di riassunto comando maiuscola d per aprire la finestra gestisci database in gestisci database siamo in servizi siamo in servizi andiamo ad inserire r underscore c per conteggio o semplicemente r underscore conteggio prestazioni il tipo di campo e riassunto è comando r non comando r contenitore riassunto comando s invio sulla tastiera scegliamo la funzione di conteggio di riepilogo conteggio di e uno potrebbe andare a scegliere nome prestazione ma dobbiamo assicurarci di prendere un campo che sarà sempre valorizzato andiamo perciò a prendere picca servizio id che è la chiave primaria ok ok di nuovo il nostro campo appena creato è questo conteggio prestazioni andiamo in corrispondenza del nostro campo fusione doppio clic spazio inseriamo aperta chiusa parentesi all'interno della parentesi andiamo ad inserire un altro campo fusione e ora vado con la scorciatoia che è molto più veloce alt comando m inseriamo il campo r conteggio prestazioni ok e a questo punto in corrispondenza del nome prestazione abbiamo anche il conteggio comando b per apprezzare il cambiamento e in corrispondenza di ogni categoria c'è anche il conteggio del numero di prestazioni all'interno di quella categoria comando l per tornare in modalità formato scheda selezioniamo questi due campi e andiamo ad applicare in impostazioni dati formattazione dati scegliamo valuta comando b per apprezzare il cambiamento abbiamo la nostra prima categoria andiamo a vedere il nostro esempio ora dobbiamo inserire un'altra categoria che è il riepilogo mensile e per inserire il riepilogo mensile ricorriamo a una tattica ora vedrai che cosa intendo per tattica che utilizzeremo comando l per andare in modalità scheda comando maiuscola d creiamo un nuovo campo e questo nuovo campo lo creiamo nella tabella visite e chiamiamo questo campo primo del mese comando d per tipo data o meglio qui ho sbagliato invece di essere data non sarà data ma sarà calcolo invio si apre specifica calcolo per primo del mese il nostro campo e quello che faremo qui è di utilizzare una funzione data che permetterà di raggruppare tutte le date dello stesso mese al primo del mese facendo in quel modo avremo ad esempio ad agosto tutte le date con primo di agosto settembre con primo di settembre e sarà più facile poter creare delle categorie e riepilogare i dati mensilmente inseriamo data tabulazione nella data ci richiede tre argomenti mese giorno e anno in corrispondenza del mese inseriamo la funzione mese tabulazione e all'interno del mese dobbiamo dare come argomento data la data è data visita doppio clic il giorno qui lo codifichiamo manualmente uno costante sarà sempre uno e l'anno per l'argomento anno di data andiamo ad inserire la funzione anno tabulazione e a anno dobbiamo dare un argomento che è la data visita la funzione data la funzione data prenderà all'interno di mese con la funzione mese argomento data visita per vedere il mese di riferimento uno sarà sostituirà la data del giorno con uno e l'anno prenderà data visita e recupererà l'anno il risultato del calcolo è data ok ok ora possiamo andare a creare un'altra sessione per creare questa sessione prima abbiamo utilizzato inserisci sessione ma possiamo anche utilizzare per creare una sessione di riepilogo in un resoconto formati imposta la sessione facciamo crea e qui facciamo un altro riassunto parziale per e andiamo in visite e scegliamo primo del mese ok stampa sopra ok a questo punto qui abbiamo riassunto parziale per nome prestazione riassunto parziale per visite primo del mese dobbiamo riepilogare prima con il mese e poi dopo all'interno del mese le diverse prestazioni per questo motivo dobbiamo cliccare qui e trascinare e spostarlo in alto esci andiamo a duplicare questo campo alto sulla tastiera con il campo di fusione selezionato e trasciniamo verso l'alto doppio clic togliamo nome prestazione backspace ricorriamo di nuovo alla scorciatoia alt comando m per inserire un altro campo di fusione andiamo in corrispondenza di visite e inseriamo primo del mese ok spazio volendo importo anche qui abbiamo bisogno di inserire l'importo alt per cliccare e duplicare trascino sopra ok senza etichette questo è a posto qui siamo a posto comando b andiamo ad apprezzare qua di nuovo dobbiamo fare l'ordinamento tutte le volte che ritorni qui e hai l'impressione che qualcosa non va bene vuol dire che probabilmente ci sei dimenticato di inserire l'ordinamento dopo l'impostazione delle sessioni andiamo in ordinamento e in ordinamento andiamo in primo del mese doppio clic spostiamo in alto perché dobbiamo ordinare prima per il mese poi il nome della prestazione ordina e abbiamo il riepilogo data il numero e all'interno le varie prestazioni andiamo a fare un po di formatazione in formato scheda possiamo trascinare questo e spostarlo verso destra così vediamo bene che questo è il riepilogo di prima categoria e seconda categoria il mese possiamo formatarlo in modo da vedere andiamo in dati in corrispondenza di cui scegliamo il calendario formato inserito andiamo a scegliere personalizzato e non vogliamo il giorno nessuno non vogliamo nessuno qui vogliamo dicembre 2014 in corrispondenza di dicembre vogliamo un spazio e qui niente andiamo subito ad apprezzarlo comando B e qui abbiamo il mese l'anno il numero di conteggio per il servizio va bene andiamo di nuovo in modalità scheda e selezioniamo questi tre campi di fatturato oppure trascini semplicemente no comando Z per tonare indietro trascino selezioni tutte e tre andiamo in valuta e come impostazione qui sto cercando il separatore che è già selezionato ora è selezionato comando B e abbiamo anche qui il nostro separatore comando L selezioniamo tutto questo applichiamo il grassetto possiamo incrementare qui a 14 comando B può andar bene modifica il formato che cosa ci manca da fare qui nel nostro report attualmente vediamo solo questo perché stiamo visualizzando ancora la parte filtrata dal report precedente vediamo 42 123 mostra tutto dobbiamo andare di nuovo a fare il nostro ordina questo e questo ordina e abbiamo qui tutti i nostri dati ritorniamo vediamo il nostro sketch qui va bene ok siamo abbastanza allineati come noti attualmente il fatturato è ordinato in base alla prestazione potrebbe aver più senso ordinare la prestazione in ordine discendente in base al valore di subtotale fatturato in modo da vedere subito all'interno del mese le prestazioni con fatturato più alto dobbiamo andare in ordina e in ordina dobbiamo selezionare nome prestazione e in corrispondenza di nome prestazione andiamo a scegliere qui riordina in base al campo riassunto si apre la tabella qui andiamo a scegliere di riassumere in base a resoconto somma importo assicurazione ok facciamo ordina e a questo punto qui è ascendente possiamo ritornare all'interno e semplicemente selezionare questo e fare ordine discendente ordina e a questo punto abbiamo la categoria nome prestazione che viene ordinata per riassunto in modo decrescente qua va bene all'interno di questi vediamo che alcuni campi hanno questi bordi che non ci piace andiamo ad eliminare i bordi selezioniamo il campo andiamo qui in aspetto e riempimento no linea nessuna qui linea nessuna esci dal formato ora è molto meglio a questo punto abbiamo il nostro report che riepiloga le prestazioni per mese e per nome prestazione fa il conteggio delle prestazioni e abbiamo il riepilogo del fatturato per prestazione ordinando decrescente questo a posto dobbiamo permettere al contabile di poter eseguire anche qui delle ricerche su un intervallo di date per fare questo dobbiamo modificare un attimino questo lo script che potenzia questo pulsante per fare quello andiamo in modifica il formato doppio clic apriamo lo script clic e qui con lo script selezionato clicchiamo sull'icona impostazioni modifica per modificare il nostro script questo script va sostanzialmente bene l'unica cosa che varia è a livello dell'ordinamento perché ordina il record per il formato reso conto fatturato non è lo stesso ordinamento che abbiamo applicato al nuovo formato delle prestazioni per mese dobbiamo inserire qui una condizione e sulla base di quella condizione lo script eseguirà uno o l'altro ordinamento esegui la ricerca una volta che avrà eseguito la ricerca invio dobbiamo inserire un if tabulazione ricorriamo alla potente funzione get nome formato e diciamo al get nome formato se il nome formato è uguale a reso conto fatturato invio invio se il nome del formato è uguale a reso conto fatturato devi ordinare con questo trasciniamo e spostiamo qui dentro invio altrimenti else tabulazione invio per creare una nuova riga vuota altrimenti ordina i record ordina tabulazione disattiviamo questa la finestra di dialogo impostazione specifica e cui ha preso praticamente le ultime opzioni di ordinamento che va bene ok riassumiamo la modifica di questo script lo script quando verrà lanciato lo script andrà da questo fino a esegui la ricerca una volta che avrà eseguito la ricerca chiederà quale il nome del formato nel quale sta operando se ha reso conto fatturato eseguirà questo ordinamento se invece non è reso conto fatturato eseguirà quest'altro ordinamento eventualmente potresti inserire un altro else if per verificare effettivamente che il formato corrente per l'applicazione di questo di questa istruzione si ha reso conto prestazioni per mese ok ok chiudo comando b proviamo ad effettuare la nostra ricerca qui scegliamo primo agosto qui il 31 dicembre esegui la ricerca è stata eseguita la ricerca ed ha filtrato effettivamente come abbiamo impostato ci muoviamo nell'altro formato reso conto fatturato proviamo ad eseguire la stessa ricerca e è stato filtrato qui correttamente ritorniamo a reso conto prestazioni mese e il piccolo inconveniente che abbiamo qui è che quando ritorniamo non abbiamo più né la ricerca di prima né i dati questo perché ritornando a questo formato è stato applicato l'ordinamento applicato nel formato precedente a nulla possiamo andare a modificare a rimodificare il nostro script per fare in modo che questa non avvenga nella prossima lezione vediamo come perfezionare lo script che potenzia la ricerca in modo che a ogni nuovo accesso del formato venga ripristinato l'ordinamento corretto grazie per la tua attenzione e se vorrai condividere questo video nei tuoi social ti ringrazio doppiamente a presto iscriviti al canale